Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ovviamente questo tutorial non è solamente per Ratchet & Clank con questo tutorial tu puoi cambiare lingua al gioco, no i sottotitoli e il doppiaggio proprio perché stavo giocando e attraverso questo file sono riuscito a cambiare lingua alle voci quindi in questo caso se nel gioco c'è l'impostazione audio inglese voi mettete la spunta no attivate i sottotitoli in italiano e una volta fatto chiudete il gioco, entrate nella sua cartella nel percorso file del gioco cliccate su questo documento e al posto di English mettete Italian questa procedura funzionerà su alcuni giochi quindi con questo gioco ha funzionato, la lingua è in italiano ci farò un benchmark per vedere meglio le impostazioni, le temperature, le specifiche prestazioni che dà il gioco sulla mia scheda video per farti capire che il gioco è anche in italiano quando parlano quindi in questo caso se ti è stato utilissimo questa guida se non hai questo file c'è il server discord, c'è proprio un canale a parte che si chiama doppiaggio lingua e dentro quel canale troverai questo file, ok? quindi grazie a tutti per questa visione, noi ci vediamo nel prossimo tutorial, ciao!